Quindi comunque... Ma devo farlo velocemente? Come devo farlo? In maniera abbastanza veloce, non è più una cosa già... Cinque volte? Sì. Cinque volte, in realtà cinque volte. Tre, due, una, via. Quattro, ancora una. Cinque. Ok, sono otto e novantasei e... L'Obesity Day al Mauriziano è un'iniziativa che viene effettuata in tutta Italia per sensibilizzare e dare informazioni alla popolazione sullo stile di vita alimentare corretto. Quest'anno è stato organizzato, grazie anche alla partecipazione degli allievi del corso di laurea in dietistica dell'Università di Torino e i dietisti dell'ospedale Mauriziano, a fare anche delle lezioni interattive sulla scelta degli alimenti, sulla scelta degli ingredienti per preparare dei piatti in linea con un'alimentazione salutare, scelte anche di consapevolezza, quindi come riflettere sul cibo che assumiamo, vengono anche fatte delle valutazioni sulle misure corporee e sulla forma fisica. L'obiettivo è proprio quello di dare informazioni alla popolazione. purtroppo molte volte le informazioni vengono date anche utilizzando dei messaggi fuorvianti, dei messaggi preoccupanti, dei messaggi che disorientano forse le persone e quindi cerchiamo proprio di dare degli esempi pratici dell'alimentazione. sottolineiamo il fatto che dire sono a dieta non è una buona prospettiva. Bisogna avere un'alimentazione corretta tutti i giorni, alternare periodi di diete magari rigide, periodi in cui invece si ha un disordine alimentare e quanto possiamo fare di peggio per la nostra salute. non lo sapevo, è arrivata sorpresa.